Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteincalabria.it L'ondata di caldo che sta interessando la penisola iberica non accenna a diminuire, anzi nelle prossime ore è previsto un ulteriore aumento. In molte località spagnole si raggiungeranno valori vicino o superiore ai 40 gradi, mentre sulla nostra regione, come ampiamente descritto nelle puntate precedenti, trovandoci sul bordo orientale di questo vasto campo anticiclonico che abbraccia l'Europa centro-occidentale, gli effetti di questa antata sono di minore intensità e durata. Infatti già da domani un'infiltrazione di aree più fredde in quota favorirà la formazione di velocità di tipo cumuliforme, con possibili piogge che potrebbero interessare Pollino e Altipiano Silano. Invece dalla giornata di sabato inizierà un calo delle temperature, che si avvertirà maggiormente tra le giornate di domenica e lunedì. Passiamo alla previsione in dettaglio per la Calabria. Giovedì, cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature stazionarie. Venerdì, generale condizione di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso della giornata, aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme, con possibili piogge su Pollino e Sila. Temperature stazionarie. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Giovedì, mari generalmente calmi o poco mossi, con venti e regime di brezza. Venerdì, mari poco mossi, con venti e regime di brezza. E infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.metincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Metin Calabria. Per la puntata di oggi è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento.